usciti dalla porta per rientrare dalla finestra questo il senso dato dalla cgl di rimini alla introduzione dei nuovi buoni lavoro attivi dal 10 luglio che seppure prevedono alcune limitazioni rispetto ai vecchi voucher potranno essere adottati dalle imprese con un massimo di cinque lavoratori stabilizzati nel paniere dunque ricade gran parte delle aziende turistiche un'operazione gattopardesca cambiare tutto per non cambiare niente per i lavoratori rimangono i problemi che conoscevamo niente contributi ai fini pensionistici niente malattia niente maternità e niente ore utili per prendere la naspia cosiddetta vecchia disoccupazione io credo che la lesione rimanga e rimane anche la lesione democratica perché anzi che abrogare i voucher abbiamo abrogato il referendum il governo abrogato il referendum secondo la cgl il sistema di controlli introdotto dalla nuova legislazione non serve a placare la piaga del lavoro nero la possibilità per le imprese di attivarlo un'ora prima del suo utilizzo e disdirlo qualora non venga utilizzato tre giorni dopo evidentemente lascia spazi di discrezionalità che naturalmente permettono anche a chi vuol fare il furbo di fare il furbo cioè di utilizzare il voucher o il buono lavoro come si chiama adesso come foglia di fico per il lavoro irregolare un datore di lavoro potrà però spendere solo 5 mila euro annui di buoni per tutti i lavoratori stessa soglia per questi ultimi che da ogni datore potranno ricevere al massimo 2500 euro all'anno di buoni per tutti i lavoratori stessa soglia per tutti i lavoratori stessa soglia per